Siamo qui davanti al carcere Lorusso e Cotugna, alle vallette di Torino con le mamme in piazza per la libertà di dissenso. Siete qui per un presidio in solidarietà con i detenuti, il Lorusso è al centro di qualunque possibile scandalo. L'apertura del processo per quanto riguarda le torture, quindi Minervini, Alberotanza, il caso Raddi tutto l'aperto, lo scandalo del sestante, la direttrice che praticamente è scappata via, tre designati che hanno rinunciato, quindi evidentemente hanno valutato che non ci siano delle ottime condizioni ambientali per poter dirigere il carcere Lorusso e Cotugno, la nuova direttrice che arriva da Bollate, Cosa ci potete dire? Ma guarda, noi conosciamo questo carcere sempre più proprio grazie alla nostra attività di presidio che inizialmente era per Dana, per Fabiola, per sostenerle. Da Dana e Fabiola siamo passati a una bella relazione, mi permetto di dire, con tutte le donne della sezione femminile che in qualche modo hanno, diciamo anche un po' contaminate, ce l'hanno detto Chiaretondo, dalle modalità, dalla forza, dal coraggio di Dana e di Fabiola per sostenere la loro lotta, che è una lotta non violenta e che è una lotta che richiama l'attenzione su alcune possibili azioni giuridiche che sono nel nostro ordinamento giuridico, si tratta di applicarle per almeno attivarsi sul piano del sovraffollamento di questo carcere. Ma questo carcere stiamo vedendo che non ha solo il problema del sovraffollamento, come hai detto tu ci sono talmente tanti e tanti casi di scandali e che sono attualmente sotto giudizio, quindi i funzionari, gli apparati, gli apparati alti, la polizia penitenziaria in questo momento è sotto inchiesta per numerosi scandali, per la morte di un ragazzo, per delle torture, non perché si sono rubati del cibo che cosa, ma per torture e per morti dentro queste mura. Questo è un fatto gravissimo, il fatto che la direttrice sia andata via, sia scappata via, dicendo sono lasciata da sola, la dice lunga su un disastro generalizzato e organico di tutto l'apparato carcerario. In questo mese anche la polizia penitenziaria ha fatto sapere che richiedeva, che diceva, che accusava di essere sotto organico, ma noi crediamo che sotto organico sia tutto il sistema, cioè le donne ci dicono, non ci danno le pene alternative, non riusciamo a fare i colloqui con le educatrici, abbiamo poche educatrici, poche assistenti sociali, i magistrati di sorveglianza non rispondono o rispondono in ritardo. Una donna natale è stata scarcerata quattro giorni dopo la data di scarcerazione perché probabilmente non c'è stato un passaggio delle comunicazioni efficaci, quindi sappiamo che tutto il sistema è assolutamente carente, inefficace, ma lo pagano i detenuti, lo pagano con un sistema che davvero se arrivasse oggi in sede europea credo che richiederebbe un'ennesima condanna dell'Italia e una feroce condanna di questo carcere. La gente, la politica, la società dovrebbe veramente richiedere cosa sta succedendo a Torino e alle vallette e richiedere un intervento molto molto incisivo. Grazie mille. Grazie a te.